Musica Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con la Rassegna Stampa Rassegna Stampa di oggi, martedì 11 o 10 ottobre, vediamo un po' 10 novembre, 10 novembre 2015 Allora, questo è il santo del giorno, oggi è San Leone Magno Papa Il sole è sorto alle 6.55, tramonterà alle 16.49 Sono 10 gradi questa mattina alle 7.30 in diretta Avremo un cielo sereno, poco nuvoloso Le temperature senza variazione di rilievo, il venti di leggeri leggeri Insomma, quindi direi prezza leggera prevalentemente dai quadranti occidentali Il mare è quasi calmo, attenzione Durante le ore notturne, formazione di foschie nei fondovalle Anche domani più o meno la giornata sarà identica, così come quella di giovedì Dunque il tempo regge per questi giorni Cominciamo dalla pagina di Fano del resto del Carlino Carnevale magico con le Wings Gancio finalmente riuscito Cecchini annuncia l'accordo con la Rainbow Che è la casa di Recanati Che produce il cartone animato più famoso del mondo Un passo, dice Cecchini, il presidente da gigante Intanto è pace fatta tra l'ente carnevalesca e i carristi Un occhio al budget senza perdere la qualità Ricordo che gli appuntamenti del carnevale Saranno, sono quelli del 24 e 31 gennaio Quindi un carnevale che arriva subito dopo le festività di Natale E l'ultima data è quella del 7 febbraio 2016 Le star d'eccezione appunto saranno le Wings Che sfileranno lungo via le Gramsci Nelle tre domeniche della manifestazione L'altra pagina invece del resto del Carlino Si occupa di cronaca con questo gravissimo incidente Che è avvenuto ieri in superstrada Una ragazza che lotta tra la vita e la morte Si chiama Selena Cani 22 anni ancora da compiere I soccorritori l'hanno rianimata sulla superstrada E' stata tamponata nell'auto guasta Nuova vita per l'ex collegio Sant'Arcangelo Ostello, museo del carnevale Casa del Gezz Centro storico che cambia Potrebbero arrivare 2 milioni di euro Marchegiani coinvolgere la Perugina Sarebbe un dia interessante Ma finora nessun contatto La politica con l'inchiesta Sulla centrodestra Centrodestra che non c'è a Fano Parla del vecchio Siamo confusi e felici Ma soprattutto divisi La tragedia di Pesaro La raccolta fondi per il giovane papà Ecco come aiutare la vedova ai tre figli Era molto conosciuto Il muratore morto dopo lo schianto a Muraglia Disposta all'autopsia La procura vuole sapere le esatte cause del decesso Manca il nulla osta alla sua funerale Si era sposato nel 2008 con Marina Oggi trentenne Tutti figli nati a Pesaro Poi ancora la cronaca La truffa solidale Così l'ha definita il Carlino Raggirati i fedeli di Villa Fastigi Impostori si spacciano per una onlus Sono stati raccolti oltre 500 euro Con un banchetto in fondo alla chiesa I malviventi sono finiti sotto processo All'udienza di giorni fa Ha ascoltato anche Padre Lucio Lo vedete in questa fotografia Dall'ora dice il sacerdote religioso Dall'ora non ho più voluto nessuno A raccogliere offerte all'interno della mia chiesa Con le borse schermate Raziavano i market Sono state prese due giovani moldave Pizzicate a rubare all'OVS A casa c'era i poliziotti Hanno trovato altra refurtiva Cambiamo pagina E andiamo adesso a leggere una delle due pagine Che il resto del carino questa mattina Dedica ancora a Valentino Rossi E alla vittoria morale Diciamo così Meglio un campionato perso bene Che uno vinto male Parola di papà Graziano Vale dice Ha fatto scoprire una realtà che non si conosceva Ora pensiamo al 2016 Quest'anno è finita così La speranza è che almeno nella prossima stagione Possa giocarsela comunque alla pari Dalle moto alla politica Vale e Marchez si detestano come Renzi e Bersani Anzi di più e in maniera molto più violenta Andiamo adesso sulla pagina del messaggero Dove anche qui capeggia in primo piano Sicuramente la foto Bella foto di Rossi Il mito del campione più forte della sconfitta Al MotoGP La sconfitta al mondiale non solo non ha scalfito Il mito di Valentino Rossi Ma anzi sembra proprio averlo fatto crescere E papà Graziano dice La gente sta con chi è vittima di una ingiustizia Centropagina invece Il titolo sul nuovo ospedale Lo vedremo tra un attimo Ospedale L'ultimatum di Matteo Ricce Allora andiamolo a vedere Questo titolo sul messaggero Eccolo qua Ultimatum del sindaco L'idea è di arrivare all'accordo con Fano Entro il mese di novembre Altrimenti la regione sarà legittimata A scegliere il sito dove costruire questo nuovo ospedale Ricci chiede al sindaco di Fano Massimo Seri Di non insistere con l'ipotesi chiaruccia Sarebbe come se noi proponessimo ancora case bruciate Via libera alla spesa di 225 mila euro Per il referendum sulla fusione con Monbaroccio La minoranza protesta Carni e salumi I medici fanno chiarezza Sotto tumore al coloretto Il punto dopo l'allarme dell'OMS L'organizzazione mondiale sulla sanità Poi i migranti I migranti ai lavori socialmente utili Firmato l'accordo Intesa tra l'ANCI Che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Regione e Prefetture delle Marche Sarà velocizzato il rilascio dello status di asilo politico Altra notizia invece riguarda la provincia Con i tagli in vista per altri 8 milioni Torna all'allarme default La legge di stabilità che sarà discussa in Parlamento Crea ulteriori problemi in Viale Gramsci Gli stipendi sono a rischio Mentre sotto vedete bollette dei rifiuti Pesaro, maglia nera Ogni famiglia paga in media 271 euro Per quanto riguarda la sede dell'Istituto Santa Marta C'è un'assemblea senza ricci e tagliolini Docenti e personali chiedono certezze L'invito al sindaco e al presidente della provincia Non è stato accolto Ancora la cronaca da Pesaro Urbino Hai bevuto? È meglio che resti a casa E lei l'ha accoltellato Convalidato l'arresto per tentato omicidio della donna Che venerdì ha ferito il compagno Ora è ai domiciliari L'origine della lite è la decisione dell'uomo Di non portarla con sé in ospedale Per visitare un conoscente E poi la pagina di Fano Il carnevale si fa in tre E conquista tutta l'estate Presentate le sorprese dell'edizione 2016 Dice arrivano le Wings Il nuovo simbolo è una colomba prendigetto Il sindaco dice l'accordo raggiunto Tra carristi e dente è un grande traguardo Invece sulla Croce Azzura La protesta si fa più dura Da ieri bloccati Turni straordinari Reperibilità e lavoro notturno I dipendenti aspettano ancora Tre mesi di stipendi Nei prossimi giorni verranno programmate Altre iniziative di protesta E adesso andiamo sul Corriere Adriatico Naturalmente anche qui La pagina di Fano si sofferma E dà spazio Grande evidenza al carnevale di Fano Vedete il carnevale ora si fa in quattro E questo è il simbolo di quest'anno Poi rinnovati due grandi carri E tre di seconda categoria Patto condiviso Al lavoro l'associazione carristi Gomma più ma per caso Fantagruel pensa invece all'estate Campagna per i soci Da dicembre Soci per tesserarsi Per tesserarsi Per far parte dell'ente carnevalesca Insomma l'operazione tesseramento L'ente carnevalesca si dice fiducioso Nel replicare il successo ottenuto Nei mesi scorsi Quando era stata raggiunta Quota 1207 soci Sull'altra pagina di Fano invece Più servizi e maggiori spazi Le richieste dei concessionari Per potenziare l'offerta turistica Campi da volley da spostare Chioschi da allargare e sub affittare E una vasca per le piene Nella zona Arzilla Un violento tamponamento Giovane gravemente ferita Poi un ubriaco invece al volante Rischia il coma etilico Un tasso alcolico 5 volte superiore Al limite E' stato pizzicato l'altra notte Sanzionati dalla polizia stradale Anche altre due persone Con il ritiro della patente A altri appunto due giovani conducenti Sul turismo regionale Campagna d'ascolto Il consigliere Rapa ha incontrato L'Unpli Riconosco il ruolo determinante Delle proloco Dice il consigliere regionale Rapa Poi a Montemaggiore al Metauro Invece nuova palestra Assemblea pubblica Contro la progettata variante al PRG La vecchia struttura era crollata Sotto il peso del Nevone Del 2000 E qui del 2012 Mentre Paolo Marzocchi Paolo Marzocchi incanta In memoria di Majorano Splendido concerto Del pianista pesarese Andiamo sulla pagina di Fano Siamo quasi in chiusura I grandi sul palco Della Città della Musica Tante personalità Le istituzioni musicali pesaresi In un cartello unico Due anni e mezzo Tutti dedicati a Rossini E sotto coppia di ladre All'OVS Tradite dalle placche Antitaccheggio La borsa era schermata Ma non funziona Come avevano progettato Dunque sono state arrestate Nelle loro abitazioni E' stata sequestrata Re furtiva Per oltre 2000 euro Poi a Fossombrone Invece un'anziana Ha fiutato la truffa Ha intuito la truffa E quindi un uomo E' stato messo in fuga Uno dei tanti Pseudo rappresentanti OVS In Italia Appunto che Hanno insistito Per poter entrare Dentro casa La signora Aveva la catenella Di sicurezza Insomma la porta Era socchiusa Insomma A dire Te ne devi andare Te ne devi andare Poi alla fine Insomma L'uomo ha resistito E quindi Ha lasciato in pace La signora E questa è una cosa Che dovete fare Tutti voi Quando avete a che fare Soprattutto con gli anziani Quando avete a che fare Con queste persone Che insistono Per poter entrare Dentro casa Allora il segno stampa Finisce qui Vi ringrazio per la vostra attenzione Vi do appuntamento stasera Alle 20 e 30 Con occhio alla notizia Arrivederci Sous-titrage ST' 501